Malati psichiatrici, a Ischia ancora nessuna novità su questa situazione che ormai va avanti da tanto tempo e oggi anche la beffa di un convegno a Ischia sull'umanizzazione dei servizi sanitari. Sì, è davvero difficile accettare dopo aver preso atto della diminuzione drastica di tutti i servizi. Noi facciamo parte del Comitato per la Salute Mentale, ma pensiamo anche all'oncologia, alla neuropsichiatria infantile. In quest'isola stanno venendo meno tutti i servizi essenziali per la popolazione. Poi ci troviamo con un convegno beffa dal titolo l'umanizzazione nei servizi assistenziali. Io vorrei chiedere a questi relatori, a questi dirigenti, a chi pensano di farla l'umanizzazione se non ci sono le strutture, i servizi e i pazienti, gli utenti non sanno neanche a chi rivolgersi. Il Comitato è ancora una volta a manifestare per rivendicare un diritto isolano e ancora una volta il Comitato è lasciato solo dalle amministrazioni? Dalle amministrazioni, ma in generale dalla classe dirigente. Siamo qui stamattina perché abbiamo tentato un'interlocuzione, avremmo voluto un'interlocuzione con la dirigenza ASL, ma anche stavolta un'occasione perduta. da Napoli e comunque dalle stanze dei bottoni hanno pensato bene di non essere presenti. Noi comunque siamo presenti oggi, lo saremo domani e continuiamo la nostra battaglia anche per chi oggi non è qui con noi.